Ciao ninja, siamo sempre nei post, questo è l'ultimo grafico dove c'è l'analisi dettagliata e ti fa vedere tutti i post che stai analizzando in questo momento, li puoi ordinare per i diversi parametri disponibili, è molto interessante perché ti fa capire subito quali sono quelli che vanno bene e quelli che non vanno bene e dirai sì grazie facile, li mettono in ordine di like e commenti, invece no, non è sempre così perché gli aspetti da tenere in considerazione non sono soltanto le interazioni, ma magari può essere anche quali sono i post dove le persone tornano più volte a riguardarli e cercare di capire perché, cosa hanno in comune quei post o quelli che invece magari non hanno una reach esagerata ma hanno un ottimo engagement rate, ninja engagement rate per la precisione, quindi vuol dire che magari non l'hanno visto in tanti ma quelli che l'hanno visto erano veramente in target e hanno interagito molto bene con quei contenuti, questo è un parametro veramente interessante da tenere sott'occhio, inutile che ti dica tutti gli altri, salvataggi, commenti, coperture, già li conosci, l'unica cosa che posso dirti è di fare veramente attenzione a quello che hai usato all'interno dei post, quindi se hai usato qualche hashtag o qualche menzione particolare, ma soprattutto di andare a controllare se hai molti salvataggi il motivo per cui le persone si stanno salvando i tuoi contenuti e può essere che la foto è molto interessante o magari quello che hai scritto nella descrizione è veramente interessante.